Alcune opere d'arte sono talmente famose e importanti che vengono chiamate capolavori e Ursula Goff, hair stylist proveniente dal Kansas, ha tradotto letteralmente questa espressione applicandola al suo ambito lavorativo. La Goff infatti è una parrucchiera pittrice che crea, diciamo così, delle acconciature d'autore ispirandosi ad artisti come Van Gogh, Munch, Klimt o Warhol e trasportando l'intensità dei loro quadri più consciuti sui capelli delle proprie clienti. Ebbene, Ursula, una laurea in psicologia, oltre vent'anni di esperienza come hair colorist e una vera e insana passione per l'arte, ha acquisito un notevole seguito sui social postando foto di acconciature coloratissime che riprendono per esempio i gialli e i blu di Notte stellata di Van Gogh, quel viola alienante dell'urlo di Munch o ancora quell'azzurro lucente della venere di Botticelli. In una intervista in tv, Ursula Goff ha spiegato che in lei c'è sempre stato un particolare legame tra il mondo dell'arte e le sue creazioni. Mi è venuto in mente da poco di associare alcune tinte che ho fatto con le opere d'arte, un'idea che mi è sempre galleggiata nella mente probabilmente. Spesso infatti, dice la Goff, i quadri hanno influenzato le palette di colori che utilizzo e le texture dei capelli che faccio. Insomma, come possiamo dire, esistono davvero quei quadri che non riusciamo proprio a toglierci dalla testa, ma speriamo che gli storici dell'arte non si mettano le mani nei capelli nel vedere le acconciature d'autore firmate Ursula Goff.